Tutto nasce nel febbraio scorso quando a Corleone, il figlio del boss mafioso Totò Riina, fa da padrino al battesimo di un bambino. La notizia diviene pubblica e scoppiano feroci le polemiche. Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, parla di una scelta inopportuna e ribadisce quanto sottolineato più volte dai vescovi siciliani, ovvero che coloro che fanno parte della mafia vivono una insanabile opposizione al Vangelo di Gesù Cristo e alla Chiesa. Da qui la decisione di pubblicare un documento uscito in questi giorni nel quale lo stesso Monsignor Pennisi specifica che nella diocesi di Monreale non saranno più accettati come padrini di battesimo e di cresima persone condannate per mafia. C'è incompatibilità fra l'essere cristiani e l'essere mafiosi e siccome il padrino è uno che deve essere l'educatore della fede, il testimone della fede, non può essere certamente uno che adotta un codice che è contrario al codice del Vangelo, al codice delle beatitudini. Una linea questa condivisa non solo con tutto l'episcopato siciliano ma più in generale con tutta la Chiesa Cattolica anche se non mancano le critiche. Qualche commento di chi dice ma il vescovo perché non si fa i fatti suoi, ecco il battesimo e le cresime sono fatti di famiglia, il vescovo si deve interessare di altre cose, qualcun altro ha detto che tutti sono figli di Dio però bisogna anche comportarsi da figli di Dio e certamente se uno ha commesso dei delitti deve non solo prendere le distanze dalla mafia, deve chiedere perdono alle vittime e deve per quanto è possibile cercare di riparare il male fatto.